Ok. Perfect. Then, good evening, everybody, and thank you, Marco, for translating today. Ok, allora facciamo un po' di presentazioni. Mattia Smith, perché insieme ci siamo, sia un po' di vecchie reclute che di nuove persone che stanno conoscendo il software. Mattia Smith è il CEO di Analyzer Pro, io sono un suo collaboratore che dà una mano per il mercato italiano e questa sera mi occupo di tradurvi, siccome Mattia farà la presentazione in inglese, io la trasporterò in lingua italiana. Perfect. Thank you very much. Ok. Marco, mi dice Pippo al telefono che è in attesa a riunione ma non lo fanno entrare. No, in sala d'attesa non lo vedo. Mattias, do you see Pippo Laudani in waiting room? Nope. Aspetta, gli mando il link io. Provo a mandargli il link. L'ho messo sul sito il link. Mandano su P. Te lo sto mandando su P, va bene. Salve a tutti. Salve. Salve, Vincenzo. Ciao, ciao, Vincenzo. Ok. Ok. So, we have, or I have the pleasure to present you what we have worked on for a full year now. However, of course, this presentation is a little bit shorter. So, I will focus on the bigger aspects of the new version 24. And we have put, yeah, a lot of effort. into fulfilling a lot of, the long list of smaller wishes that people gave us next to the bigger ones, of course. So, among the smaller things are, for example, that you can now show the name of each phase or have a distance ruler on the vehicles. Una delle implementazioni più semplici, diciamo così, che sono state eseguite su richiesta degli utenti è far comparire i nomi delle fasi. Vedete che adesso si può, si vede il di cost, reazione, frenare, oppure direttamente sulla traccia del veicolo, oppure far diventare la traccia del veicolo un righello con gli spostamenti in metri. Sono stati inseriti nuovi oggetti tridimensionali come il campo di grano, il prato con l'erba o la pensilina dell'autobus. È stata inserita la possibilità di stampare direttamente dall'ambiente tridimensionale. And, yeah, also we have added a few extra features in the printing where you can add a ruler or more descriptions to your printing document. Se vi ricordate, prima era possibile farlo passando tramite il catturo a schermo. Adesso è possibile farlo direttamente dall'ambiente 3D inserendo anche delle note, tutta quella parte che era sulla parte sinistra dello schermo di personalizzazione. One of the bigger topics is that we have reworked the whole diagrams. So some people like to work with diagrams, some people don't. But, yeah, now we have reworked them completely. Quelle che abbiamo visto fino ad adesso sono delle implementazioni semplici, leggere. Una invece degli impegni grossi che hanno impegnato quest'ultimo anno è che hanno rivisto completamente la programmazione dei grafici del programma. Sappiamo che qualcuno di noi li usa, qualcuno di noi un po' meno. Però con queste nuove implementazioni probabilmente sono più accattivanti e anche funzionali, per cui può essere che qualcuno di noi impari a usarli anche un po' di più. You can now switch between different diagram types, for example here on the right. Vedete che è comparso questo menu sulla destra, dove è possibile passare da un tipo di diagramma a un altro. We can switch on and off the name of the phases. Si possono accendere e spegnere i nomi delle fasi. We can switch on and off these extra curves. These curves are here because in the diagram, the vehicle only has the size of a point, but in reality it has, of course, a length. And here you can switch on the lengths of the vehicle in the diagram. Si possono accendere queste curve extra, diciamo così, perché nel diagramma prima veniva rappresentata una linea, ma in questo caso dove abbiamo un diagramma spazio-tempo, noi sappiamo che il veicolo ha una lunghezza. Per cui quelle due linee sono semplicemente la parte frontale e la parte finale del veicolo, in modo che noi abbiamo anche quella come occupazione di spazio. And yeah, we have several more settings, but what we can also do now is we can directly copy the diagram into our kinematics view by just clicking here. Premendo questo tasto è possibile copiare direttamente il grafico all'interno della cinematica, sovrapponendo esattamente, vedete, sia la parte grafica che la parte cinematica. And some people like to work that way, so people can directly see in the diagram what happens in the diagram, but beneath what happens in the 2D depiction. In questo modo potete vedere, avete la possibilità di vedere la doppia rappresentazione, cioè avete nella parte superiore il diagramma e vedrete quello che succede all'interno delle curve tracciate dal diagramma. E nella parte inferiore invece avete la cinematica, per cui la vista dall'alto della scena del sinistro con i relativi movimenti. And the speciality about this is that this is not just a picture, so if we change the calculation, the diagram down here will also change. Tenete presente che questa non è un'immagine, quella del diagramma non è un'immagine, ma è in realtà un grafico a tutti gli effetti, per cui è un grafico dinamico. Se vengono cambiati i parametri di ricostruzione, il grafico si aggiorna. Yeah, so, yeah, a little tool for people that like to work with diagrams, and yeah, you should have a better time now, ideally. Per le persone che erano in un uso consueto del diagramma apprezzeranno questa nuova funzionalità. Let's go to the next topic, and this topic is about, yeah, the very fancy topic of AI or machine learning. Il prossimo aspetto che vogliamo farvi vedere è legato all'intelligenza artificiale. È stata introdotta questa nuova funzione all'interno del programma ed vedrete che ha portato notevoli miglioramenti. So, you all know the situation, you load a certain picture, maybe from Google Maps or from a drone or from wherever, but unfortunately, there are, in this moment where you take the photo, there are cars parked around here that you don't want to have in your sketch. Chi di noi utilizza da tempo questo programma sa che è possibile importare immagini satellitari da Google Maps o da servizi simili e poi utilizzarle come piano di lavoro su cui eseguire la nostra ricostruzione. Capita alle volte che queste immagini importate abbiano degli elementi di disturbo come ad esempio delle macchine parcheggiate magari dove, proprio dove ci serve avere il campo libero e questo crea un po' di disorientamento nei confronti dei nostri clienti. So, what you can do now is you can just click, for example, on this car and you will see that the algorithm will outline it with a green line. Quello che è possibile fare adesso è rimuovere questi oggetti che potrebbero essere d'impedimento. Avete visto che l'ha avviato con un menu con un tasto destro. Premendo sull'elemento che vogliamo rimuovere, l'elemento viene evidenziato da quella linea verde. And now I can click on remove and the algorithm will try to figure out what is behind that car and replaces the background with what is behind. Vedete che l'algoritmo cosa ha fatto? Ha semplicemente analizzato l'area circostante appena esterna all'oggetto da rimuovere e ha cercato di riprodurre quello che ci dovrebbe essere se l'oggetto non ci fosse. So, I'm showing again. I'm just clicking on something and clicking remove. Per fare lo stesso esempio su un altro veicolo vedete che I can even do this with this garden tool and remove that. Lo si può fare non solo con i veicoli ma con qualunque oggetto all'interno dell'immagine. and with that you can cleanly remove things from your sketch and make them clean to work even street markings. è possibile anche rimuovere vedete non solo oggetti ma anche la segnaletica. Supponiamo che al momento in cui è avvenuto a sinistro la segnaletica non c'era è possibile rimuoverla e vedete che la planimetria che viene mostrata diventa molto più verosimile più utilizzabile and yeah this should help you with all the photos you want to use directly the original image doesn't get changed so it will we're only changing the copy of of an image and yeah that's that's how it works e questo è sicuramente un aiuto per il nostro lavoro tenete presente che tutte queste modifiche che vengono eseguite vengono eseguite nella copia dell'immagine che viene caricata nel programma cioè l'immagine originale non è non è modificata l'immagine originale la jpeg che voi avete caricato resta tale quale la copia che c'è all'interno del programma invece viene tiene conto delle modifiche Marco there is a question in the chat yes is possible define with greeted precision the shape of the outline of the the object to to the later no it will get automatically checked by just clicking on it ok no Maurizio non è possibile l'algoritmo lavora in maniera autonoma per cui definisce lui il contorno dell'oggetto non è possibile ritoccarlo proprio visto che è abbastanza precisa la cosa and another question is possible I just saw it yes it will get saved automatically so it will get saved with a different name and is automatically in the folder of your report but the jpeg image ok è possibile salvare un'immagine esternamente dando un nome diverso ok then let's continue with the next topic so you all know or many of you know that we can read in 3D photogrammetry and laser scanner files for yeah quite quite some time now and but we have really improved the import speed of laser scanner files yeah to a degree where they are extremely fast to import files and I will show you that now ok un altro miglioramento che è stato fatto che ha richiesto un grosso sforzo nella gestione dei file provenienti da laser scanner per cui nuvole di punti dove è stata migliorata la velocità di importazione e la qualità so we can now import files like with even bigger than 10 gigabyte in under 2 minutes which is as far as I know faster than everyone else ok can you repeat please the dimensional file like we have tested with 10 gigabytes and that takes under 2 minutes of course I know sappiamo che non tutti hanno un laser scanner però ci sono altri dispositivi, per esempio le camere con il lidar degli iPhone possono restituire un oggetto tridimensionale di questo tipo in maniera molto semplice. And with Analyzer you can now read them in a very short time and use them directly, either as a static object that you want to put opposite of each other or as a moving object. Ok, questa funzione dà la possibilità di scansionare in maniera tridimensionale questi oggetti e di importarli in maniera molto semplice e veloce all'interno del nostro programma per poi essere utilizzati tridimensionalmente. Quello che vedete qua in questo esempio è stato importato proprio con un iPhone e il Recon3D come software di scansione. And yeah, you can use this data as you would use them before with Agisoft so you can handle it, you get a 2D image, you get a 3D image of course and yeah, that's how it works. E vedete che questo oggetto qua esattamente come una fotogrammetria importata da Agisoft può essere inserita e utilizzata per un riscontro per quello che serve nel nostro report. Ok, then let's move on to the next topic and the next topic is Automatic Collision Analysis. Andiamo sull'altro argomento. Il prossimo argomento sarà l'analisi automatica delle collisioni. So, we have the Automatic Collision Analysis for quite some time now but we have changed its ability or enhanced its abilities in the new version even further. Chi utilizza già questo programma sa che l'analisi automatica delle collisioni esiste già da qualche versione però vedrete che è stata implementata, sono aumentate le possibilità di personalizzazione. So, one big change is already imminent. We can now not only have two participants but three participants in the Automatic Collision Analysis. So, maybe a parking vehicle or a rigid obstacle can be put in as a third party. Avrete subito notato che in questa nuova versione non sono più solo due i partecipanti che possiamo analizzare ma sono diventati tre dove il terzo partecipante può essere un veicolo in sosta può essere un oggetto fermo, un albero, un ostacolo, una qualunque cosa e questo prende parte all'interno dei calcoli che l'analisi automatica delle collisioni svolge. For those of you who don't know it yet I want to give a short description what the Automatic Collision Analysis is. Sorry, Mattias, I lost some of your words. Can you repeat? For those of you who don't know the Automatic Collision Analysis yet I want to explain briefly what it is. Ok, siccome c'è qualcuno di noi che c'è qualcuno collegato questa sera che non conosce ancora molto bene il programma o che ne sta valutando l'acquisto Mattias dovrebbe spendere due parole per spiegare che cos'è l'analisi automatica delle collisioni. So, basically, what I have to do is I have to put in the final position of my cars as well as a rough idea about the collision position. Tecnicamente, diciamo, principalmente l'analisi automatica delle collisioni risponde a questa domanda. Cioè, abbiamo le posizioni finali raggiunte, le posizioni di quiete raggiunte dai veicoli dopo l'urto e abbiamo un'idea abbastanza grossolana di dove può essere avvenuto il punto d'urto. That's what I have done now. So, I've marked the final positions with the dotted position and the assumed collision position with the straight lines shapes. Vedete che è quello che abbiamo fatto in questo esempio qua, nel senso che le sagome punteggiate, tratteggiate dei veicoli mi rappresentano le posizioni finali di stasi dei veicoli dopo l'urto e, mentre invece le posizioni quelle in linea continua rappresentano i veicoli al momento dell'urto. Then I have to put in the values that I know and the values I want to know with a certain range. A questo punto possiamo inserire all'interno delle maschere del programma i valori che noi conosciamo, i valori noti e lasciare, diciamo, liberi i valori che vogliamo ricostruire, vogliamo conoscere. What is new in the new version is, as I said, that we can put in a third vehicle but also let the height of the impact point vary as well as putting the slip angle as letting the slip angle vary and the and the slip rate, the rotational rate. Quello che è stato inserito in più rispetto alla versione precedente, abbiamo già visto il terzo veicolo, è stata inserita la possibilità di variare o di far calcolare al programma l'altezza in verticale del punto di impatto, l'angolo di rotazione e la velocità di rotazione del veicolo. Once I click on calculate, Analyzer will do ten independent sets of calculation and here you can see a counter going up. Premendo il tasto calcolare il programma esegue una serie di calcoli, vedete che c'è quel conteggio che sta salendo, adesso ho fatto 3.250 simulazioni e dà come risultato 10 possibili soluzioni indipendenti. And that is important that you can see if there are maybe different combination of values that would lead to the same result. And this also should give you a greater confidence and the option that you can say that you have checked a wider range of parameters by finding the collision situation. Il fatto che questi questi parametri convergano poi verso un certo range sempre più ristretto dà una certa confidenza ai ricostruttori nel dare dei limiti alle ricostruzioni. Nel senso che adesso non so per farvi un esempio se voi guardate il parametro V1 che adesso abbiamo in tabella vedete che varia da 14.46 15.11 14.72 per cui 13.62 per cui diciamo la velocità V1 del veicolo 1 potrebbe essere a cominciamo a avere dei margini che sono tra i 13 e i 15 chilometri all'ora. We could now wait till we have 10 results but I will stop that now because we can also just use the ones we already have. Allora questo procedimento richiede anche del tempo è possibile interromperlo avevamo 5 soluzioni abbiamo interrotto il procedimento e vediamo queste 5 soluzioni proposte dal programma. And now I can see the results but also ES values and I can select which result I like best. vedete che con quella colonna scelta è possibile attivare una qualunque delle 10 soluzioni vederne graficamente il risultato il programma calcola le ES dei due veicoli e può essere utilizzato come parametro di controllo se ne abbiamo le foto con i danni dei veicoli and then I can click on export and our whole calculation will get written to collision analysis but also already in the kinematic window and we can directly continue with our pre-collision una volta scelta diciamo la soluzione che riteniamo più corretta tramite il tasto esporta è possibile dire al programma di prendere quei valori calcolati trasportarli nell'analisi delle collisioni e nella cinematica e vedete che in ambito cinematico adesso abbiamo la ricostruzione fatta in maniera automatica ma ti dà anche la velocità di impatto contro il secondo veicolo che è parcheggiato Mattias this new system give us also the velocity of the second crash point so yes you can look that yeah you can look that up in analyzer however we cannot let this third car drive it has to be like initially static but we can also check the collision velocity here i can show you so with this arrows i can here at the bottom i can jump between the collisions and then i can see the speed so for the light blue one it's now 16 and for the other one is zero obviously muovendoci su con i tasti collisione principale secondaria e avanti così è possibile arrivare alla collisione con il terzo veicolo il limite attuale di questa procedura è che il terzo veicolo non può essere guidato tra virgolette nel senso che è un oggetto statico è fermo ok scusa volevo fare una domanda veloce ehm prima di tutto in questo metodo ovviamente sono esclusi tutti i mezzi al di fuori delle vetture quindi quelli che sono scooter moto veicoli pesanti non sono contemplati questo è il primo il secondo è una percentuale del 60 70% del valore dell'output è un valore attendibile o meno la terza terzo quesito era il nei parametri è prevista una zona di impatto però mi pare che che sia io che non riesco a farla bene mi pare che questa zona di impatto non 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 si riesce bene a definire nel programma grazie sì Mattias tre question first one is automatic collision is able to manage only vehicles or also scooter moto trucks and so on it's depending like low speed yes I would say high speed can be a bit tricky but try it out ok ok allora prima domanda è sulla prima la prima risposta alla prima domanda è che per collisioni a bassa velocità il sistema automatico è in grado di gestire anche quello del bici scooter moto e anche camion second question is a quality of 16 or 17 percent is a good quality is acceptable or not well the quality it's only up to you what you find acceptable because the quality just says how close is the calculated result to the desired result so how much difference is there in angle and distance so if you are happy with the result that comes out with 70 value of quality then it's good for you it's not that this means it's right or wrong the quality is just something for you personally to know how close you get to the final position ok il parametro qualità che noi vediamo nella tabella dei risultati è un parametro interno del programma che diciamo è a uso nostro non ti dice quanto è buona la tua ricostruzione non dice questo dice semplicemente quanto quella soluzione che lui ha stimato si sta avvicinando alle condizioni finali che tu hai imposto per cui se il baricentro del veicolo è vicino o meno al baricentro che tu hai posizionato il veicolo in stasi se la rotazione del veicolo che lui ha calcolato è più o meno vicina alla rotazione del veicolo che tu hai posizionato in stasi però diciamo non c'entra nulla con la qualità della tua ricostruzione o con la probabilità che questa ricostruzione sia corretta o meno è solo un parametro qualitativo è chiaro che se tu hai una ricostruzione al 70% di qualità e graficamente sei soddisfatto della soluzione proposta può essere una soluzione che tu puoi ritenere valida ok mi sono adesso perso però qual era la terza domanda accendi il microfono Renato non ti sento il microfono spesso scusa ho pregunto due volte il terzo punto era sui parametri che è prevista una zona di impatto e quindi voglio capire se opero male io oppure lui me lo può fare vedere un attimino se c'è un errore solo di impostazione mia ok Mattias on parameters there is the possibility to define impact areas yes Renato has some problem to define to understand how to define these areas and how the program moves inside this area the vehicles ok so initially both impact points have to be inside that green zone ok allora inizialmente entrambi i centri di massa dei veicoli devono essere all'interno dell'area del cerchio dell'area che in questo caso è l'area circolare di quel cerchio tratteggiato you can change the shape and the size of this area tu puoi cambiare la forma e la dimensione di quest'area and then the combination of both vehicles will be moved within that area e a questo punto la combinazione dei due veicoli cioè allora i due veicoli non si muovono relativamente tra di loro la combinazione dei due veicoli così come l'hai disegnata tu verrà spostata all'interno di quell'area per indagare se ci sono soluzioni che possono darti una qualità superiore però quello a cui tu devi fare riferimento sono i centri di gravità di due veicoli che si devono muovere all'interno dell'area che vai a definire la posizione relativa non viene cambiata non con quel parametro ok ci sono gli altri parametri sotto sì 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 ok 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 then let's continue with the next topic and that's again the topic of artificial intelligence in video analysis il prossimo argomento che andiamo a vedere è sempre relativo all'intelligenza artificiale inserita nella nuova versione 24 e riguarda la video analisi as you know in the last years we have worked on static cameras to find out speeds with them sapete che nella versione precedente lo scorso anno è stata presentata questa possibilità di analizzare i filmati presi da videocamere di sorveglianza statiche videocamere posizionate in maniera fissa in un punto attinente alla strada and now we have put in two tools for dynamic videos vedete che sono diventate due le possibilità c'era dashcam e OCR so both tools are actually for dashcams the one with the OCR is for the dashcams that have the speeds written in video and it will automatically filter the speed out of it ok telecamera statica è esattamente quello che c'era nella versione 23 dashcam e OCR sono relative tutte e due relative all'area dashcam per cui videocamere montate all'interno del veicolo per cui sono in movimento la differenza tra le due è che OCR è in grado di leggere il dato di velocità che viene esposto all'interno del fotogramma video come numerino c'è viene scritta la velocità all'interno in alcune dashcam questo avviene c'è il campo con la velocità OCR in grado di leggere quel campo e riproporlo all'interno dei nostri dati forse più interessante invece il video di una dashcam dove non c'è nessuna informazione riportata sul video per cui è completamente anonimo e questo andiamo a vederlo adesso we have trained a machine learning algorithm that can detect speeds out of the image flow or the video flow directly questa intelligenza artificiale è in grado di trovare aiuto you can continue ok è in grado di analizzare l'inquadratura video e recuperare i dati di velocità del veicolo su cui la videocamera è montata and the reason why is moved away is probably because it is very pulling on the computer and oh no it works and yeah it takes a lot of calculation capacity of the computer but what you can see now is that with every frame that we move forward we see the current speed written here vedete che c'è quel campo velocità nella parte sinistra dello schermo ed è quella che il programma sta calcolando fotogramma per fotogramma and the interesting thing about that is that you don't need any reference distance or yeah something like that è interessante vedete che lui sta calcolando questo senza che noi gli abbiamo dato nessun parametro di distanza nessun riferimento lo sta facendo in maniera autonoma when I click cancel you can see in red the directly measured values and in blue a fit curve for yeah the values questo è molto simile un po alla precedente gestione dell'immagine c'è la linea rossa che è quella molto frastagliata che è il calcolo puntuale della velocità la linea blu invece è quella di interpolazione di valori che diciamo smussa un po quelle creste sta cambiando il grado del polinomio per andare a and we can then transfer directly these values to the kinematics e anche qua come nel modulo precedente della 23 possiamo scegliere un'area ed esportare direttamente nella cinematica i valori di velocità calcolati dal program right now we are still improving this machine learning training algorithms and enhancing them for different driving objects like motorbikes but also linear cameras or wide angle cameras stanno lavorando ancora su questo modulo per implementare anche altri tipi di dash cam come quelle lineari piuttosto che quelle grandangolari quelle da motocicletta piuttosto che da quelle da vettura Marco scusa una domanda sì normalmente le dash cam ti dicono già loro la velocità che hanno acquisito a volte però abbiamo a che fare con dei filmati acquisiti da un cellulare che non è completamente solidale al veicolo perché internamente all'abitacolo si può muovere il fatto che l'intelligenza artificiale riesca a riconoscere degli elementi all'esterno permette di usare anche filmati acquisiti da cellulari thank you do you understand the question well I haven't done research on that to be fair but I assume it might get a bit unprecise so right now we are aiming for precision with this system of plus minus one meter per second and I don't know can't guarantee how precise that will be if camera is not connected to the vehicle ok la risposta è che se ora già il sistema questo sistema ha una precisione abbastanza grande perché siamo nell'ordine di più o meno un metro al secondo di velocità se il la dash cam fosse un non fosse collegata in maniera rigida al veicolo questa imprecisione sicuramente aumenta la premessa è che ha fatto Mattia se non abbiamo dati su questa non hanno ancora provato questa cosa col telefonino potrebbe essere una cosa che proveremo nel futuro ok if there are no further questions to that topic we can continue to the next one se non avete altre domande su questo argomento andiamo avanti con il prossimo so I'm closing that new one so un'informazione che non c'entra niente ma qua in italia non è proibita la dash cam non mi risulta in che se possiamo riprendere perché all'interno del tuo veicolo tu puoi mettere quello che vuoi ma riprendi fuori I don't know if it's allowed in Italy or not I know that in Austria the rules are quite strict for example because you're not supposed to film anyone who doesn't want to be filmed in Austria there is a restriction to use the dash cam for privacy problem yes infatti l'unica cosa che potevo pensare io è il discorso della privacy però voglio dire anche le videocamere di sorveglianza in teoria non potrebbero riprendere luoghi pubblici in realtà in quanti casi a me è successo di avere dei casi in cui la videocamera di una farmacia piuttosto che di un di un ambiente riprendeva ha ripreso il luogo pubblico passaggio e ha ripreso il sinistro e i dati di questa dash cam sono stati acquisiti dalla procura per cui scusami Marco buonasera a tutti abbiamo avuto i nostri omicini purtroppo non vi vedo perché la telecamera non funziona ma dicevo Orlando non ha risolto un incidente mortale grosso con quel ciclista che era un campione del mondo con le videocamere avevo adesso Orlando c'è e potrebbe potrebbe risponderti lui però credo che abbia utilizzato le videocamere di sorveglianza di un ambiente privato oltretutto esatto esatto non credo non credo che ci siano problemi soprattutto in una fase ricostruttiva dove ci sono evidenti i filmati che possono aiutare a ricostruire integralmente e fedelmente è un sinistro è un aiuto leggendo leggendo su internet c'è scritto che il grande della privacy ancora non si è espresso in tal senso e sembrerebbe al momento ancora possibile io io credo che il problema eventualmente allora sul fatto di riprendere o non riprendere io credo che posso riprendere posso riprendere il problema eventualmente usare o non usare i dati ripresi e divulgare le immagini la è la privacy non la deve mettere in rete esatto I would suggest we continue with the next topic if that is possible sì certo Mattias dice che questo lo approfondiremo ma è importante adesso proseguire con la presentazione so last but not least I want to dive with you into the topic of Bosch CDR un altro argomento molto impegnativo in quest'anno è stato implementare la lettura di dati della Bosch CDR so Analyzer can read in this data for quite some time but we have massively increased the capabilities of the module We have now a list view view where we can see the different values in a very clear and orderly way è possibile rappresentare i dati anche in forma tabellare dove è più immediato forse la lettura degli stessi and we have also calculated deceleration here that is highlighted if yes something is a bit weird about the value è possibile anche calcolare la decelerazione ed evidenziare quando il valore è particolare quando si usano i dati della cdr voi sapete che vanno presi un attimo con le pinze e valutati molto attentamente perché siccome vengono presi istante per istante potrebbero esserci dei dati anche diciamo falsi tra virgolette non corretti and next we have the option to show different types of diagrams that you might need all types of diagrams you could draw out of this data oltre la forma tabellare è possibile anche visualizzare i dati in forma di grafico you you can export the file also in a CSV format in a clear and orderly and structured way is and we have this tool to visualize the behavior of the driver in the car so we have steering wheel gas then engine rotations braking if it braking is on off or off and a percentage of the gas pedal vedete che abbiamo la posizione dello sterzo la velocità il numero di giri del motore la posizione del pedale dell'acceleratore e non la percentuale ma l'azionamento per cui freno sì freno no capite che istantaneamente è possibile capire cosa abbia fatto il conducente è da maggiore visibilità e immediatezza nella 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 visibilità del dato è sempre quello ma mostrato in maniera diversa questo forse è un pannello immediato e lo facciamo anche prima questo è possibile esportare direttamente il dato nella cinematica and yeah and that is what is new with Bosch CDR e questo sono le novità relative all'importazione la gestione dei dati Bosch CDR e e e that we also come to the end of the presentation of the news there are of course many more new things and there is a yeah a long list in that you i think you got per email but i hope you like what you saw and you find certain features useful for your daily work ok ci stiamo avvicinando al termine della presentazione che mi ha detto stiamo dentro quell'ora prevista chiaramente abbiamo mostrato solo le cose più importanti le più evidenti della versione 24 ma come avete visto con chi fa parte del gruppo che ho condiviso la lista degli aggiornamenti e delle migliorie fatte sono molto ma molto più più le cose che il programma contiene sarà oggetto mare di corsi avanzati andare poi a scoprirne le funzionalità and yeah to end with we have two courses upcoming in the near future a basic course and an advanced course vi ricordo mattias vi ricorda che nell'immediatezza perché a fine mese il 29 di novembre avrà inizio un corso base per gli utenti che vogliono iniziare a conoscere il software mentre invece nel mese di dicembre ci sarà 17 12 non 17 11 ok si 17 12 a 17 gennaio a 17 gennaio scusate sì sì perché il corso base va dal 29 e sono quattro lezioni per cui finisce a metà metà dicembre questi sono il corso avanzato è per chi il corso base per chi vuole conoscere il software e muovere i primi passi il corso avanzato è per chi il software magari lo maneggia da qualche da qualche tempo e vuole approfondire alcuni argomenti Mattias Renato ask if you can add the price of the courses yes i can do that so the the basic course is quite cheap so that's a hundred euro for the full course and we even have a special offer so if you want to try it out and don't have analyzer yet and after the first unit you see this is nothing for you you even get the money back so that's the beginner course ok il corso base è molto economico volutamente costa 100 euro sono quattro lezioni viene dato l'uso gratuito della versione full di analyzer 24 per queste quattro per questo mese fondamentalmente e quest'anno la proposta di Mattias è che se uno si iscrive al corso e dopo la prima lezione ritiene che il corso non sia utile per lui può cancellarsi dal corso e gli viene restituita la quota di iscrizione per cui la prima la prima lezione alla fine della prima lezione uno può decidere se proseguire o se cancellarsi dal corso e chiaramente gli viene tolta la licenza di della 24 temporanea e gli viene restituita la somma di 100 euro and the advanced course cost is six units cost 600 euros but for those who have version 24 already it only costs 450 euros ok per il corso avanzato ci sono due costi diversi a secondo se eh fai l'aggiornamento meno alla 24 eh però mh vi invito se voi andate sul sito abituatevi andare sul sito di analyzer che è tenuto costantemente aggiornato e tutte queste proposte ci sono oltretutto potete vedere anche i contenuti del corso di cosa si va a parlare eh tenete presente che nel corso avanzato eh Mattias lo sa eh sono state eh recepite alcune richieste che eh sono uscite dal gruppo cioè eh il gruppo italiano degli utenti ha chiesto eh in particolare adesso mi ricordo eh i sinistri con più partecipanti eh e i sinistri con i motocicli eh erano i due argomenti forse più scottanti e questi se andate a vedere nel corso avanzato sono stati recepiti in pieno per cui eh andate andate sul sito e vedete che eh trovate tutte le informazioni che di cui avete bisogno ok um yeah and with that said I will thank you for your attention I hope to see you uh soon again on the classes and uh yeah I hope also you find uh useful what we are doing and um yeah have a lovely evening ok detto questo Mattias vi ringrazio per aver parteci preso parte a questa presentazione che spera eh sia stata interessante per voi eh e che il prodotto che adesso lui sta mettendo sul mercato sia utile al vostro al nostro lavoro quotidiano eh spera di eh rivedervi in un all'interno di dei nostri corsi che proponiamo eh e resta a disposizione per per le vostre necessità ciao 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 ciao